Ciao a tutti, sono le 3 e 34 minuti, siamo arrivati su in cima, missione compiuta senza grampi, Maurizio per la 31esima volta, abbiamo fatto anche il personale, 4 e 44, siamo stra felici e contenti Il personale dopo i 55 anni, il nostro personale, il nostro personale è di Eterna e siamo stra felici e contenti, io pure senza grampi, quindi ragazzi meglio di così, un saluto a tutti i nostri amici, a Valeria, a Marco, a Nikita, a Oscar che sta salendo, a Gian Mario, a Angelo, a chi mi sono dimenticato? Nessuno? Ah, Simone! Non mi sono dimenticato nessuno, spero, no, spero che mi sono dimenticato E soprattutto adesso, birra! Birra per tutti! Ciao ragazzi, il nostro capitano, Daniele, è stato un caterpillar e io quest'anno senza grampi, siamo stra felice, grazie al mio osteopata, grazie a tutto il zucco di barbabiedola E alla Noela di Maurizio! Ciao a tutti! Ciao!